Adesso ci troviamo all'interno della sala dove oggi si concluderà, oggi domenica 16 giugno, si concluderà il primo congresso agoran internazionale di Gaia Planet e qui con noi c'è un magnifico rappresentante di cui vi ho fatto vedere il suo camper prima, Jean Christophe, che gli facciamo subito la domanda. Jean Christophe, cos'è che ti ha spinto a venire a questo congresso? Qu'est-ce che ti ha spinto a venire a questo? Allora, in primo anno, io ero in dialogo su internet con Adassa. All'inizio dell'anno, io ero in dialogo con Adassa. Il mi ha parlato del progetto Gaia Planet. Il ha parlato del progetto Gaia Planet. E, petit a petit, io ho trovato che c'era un progetto interessante. E piano piano ho trovato che era un progetto interessante. E poi j'ai puo essere in relazione con Mario Cherubini E così potevo essere in relazione con te Per avere più d'informazioni e come fare per venire al congresso? Per avere più d'informazioni e sapere come venire al congresso? Ecco, poi io so che tu hai già anche formato il tuo archipelago. Hai già delle persone nel tuo archipelago? Allora, in primo anno, io mi sono inscrita in membro, in membro, in membro, non, come si dice? A forse? In membro, io mi sono inscrita in membro, in membro, in candidato a libero. Primamente, io mi sono inscrita come nome libero. Ma quando Hadassah mi ha detto che resta in place da un'equipe e che io potevo fare parte del Shemesh di Gaia, allora ho aderito. E allora quando Hadassah gli ha detto che può fare parte del suo patruglio di Hadassah, lui si è messo insieme. Riassumo che gli archipelaghi nascono con una scialuppa di tre persone, poi tre per tre diventano nove, nove sono le patruglie, che poi le patruglie sono quelle che vanno alle elezioni, perché noi non facciamo elezioni individuali. In Gaia non è che viene eletta una persona, Mario o Jean-Christophe o Dania, ma viene eletto il gruppo. Infatti Jean-Christophe è stato eletto anche lui nel gruppo di Hadassah. Ma è vero che dopo il progetto è morto in me e ho il progetto di fare una patruglia in Francia, quindi siamo già in una scialuppa di cinque persone. E adesso ho gesto il progetto di fare una patruglia in Francia, ci sono cinque persone in Francia. Cinque persone. On espere per la fin dell'anno, ma sicuramente. On va decidere fare una patruglia in Francia. Per la fine dell'anno sarà una patruglia in Francia. Sarà enorme. Questo sarà il numero KGB 81 e Occitania, perché è il sud di Francia e Gnosis è geometrico sagrato. E l'altra parte è qui. Ma era la zona sacra per la Magdalena. E la Magdalena, l'Oscatar e la tradizione del Camino di Santiago. Io ho un'attrazione particolare per la Magdalena che dovrò scoprire perché sono molto attirato. Poi hai fatto queste polo bellissime. Allora Mario aveva fatto per le staff questo modello là, quindi ho fatto per le polo per il primo congrès. C'è il primo congrès. Il primo, certo. C'è straordinario. E anche con il drapeo, il flag, il flag di Gaia Planeta, perché è magnifico. E vi dirò anche che ne ha donato una anche a me, che potete vedere qui.